ciao a tutti sono nico oggi torniamo per un secondo video di spacchettamento apriamo sole luna luna segreta dove troveremo di sicuro luna la ok ali purpure sprecciano il cielo la lista dei pokemon ma noi andiamo ad aprirli e andiamo a vederli direttamente 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 quando gli spacchettiamo è troppo difficile ok iniziamo subito con il campo di gioco vediamo se riesco ad aprirlo in modo da inquadrarlo quasi tutto dove troviamo sia sol geo che luna la e questo via i segnalini danno che questa volta rispetto ai segnalini danno di nero e bianco sono in meno non c'è il signorino valero a no eccolo qua come non detto scherzavo ragazzi è così è dubbletà lista dei pokemon dell'espansione moneta e abbiamo luna la abbiamo il carto del viaggio dall'altra parte codice che non vi do ci gioco ancora io la carta luna la olografica ma andiamo ad aprire il pacchetto odore di nuovo odore di nuovo odore di nuovo ecco qua ma c'è energia 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 cosmo em energia fuoco un carto allenatore cartonatore con alu salandit cart energia oricorio stufull litwick energia di nuovo caldi di tutto ormai timer baller ecco l'energia energia gotita fatta col pongo cosmo sento qualcosa in testa mi cadranno tutti i faretti in testa oggi e bevear goto rita oddio che ha il professor cui art energia pozione scambio energia allenatore altare lunare energia di nuovo au energia stufull goto rita di nuovo minico che uno dei miei pokemon preferiti energia timer baller bevear energia di nuovo salandit di nuovo cosmog di nuovo lunala energia minor balla cosmoen l'unico litwick c'è energia lanter e il professor cui stufull gotita energia scambio alo energia labarella e di nuovo cosmog abbiamo finito lo spacchettamento del mazzo tematico luna segreta il primo di sole e luna che possiedo e mi sa anche l'unico spero che il video vi sia piaciuto mettete un like se è così lasciatemi i vostri commenti sotto nel video e iscrivetevi che fa tanto tanto bene da Nico è tutto, alla prossima, ciao! Grazie a tutti!